Buongiorno e ben ritrovati a Prima Notizia, il nostro spazio dedicato alla rassegna stampa. Andremo a vedere insieme quali sono i fatti del giorno dalle prime pagine dei quotidiani locali e nazionali che trovate oggi in edicola. In apertura però torniamo sull'operazione di ieri della squadra mobile di Potenza. 16 le persone finite domiciliari per corruzione, calunnia e stalking. Denominatore comune dei due filoni di inchiesta, l'ex sindaco di Ruoti, Angelo Salinardi, che secondo gli inquirenti avrebbe posto in essere reiterate atti persecutori per far dimettere l'attuale sindaca, Anna Maria Scalise, alla quale, come lei stessa ha dichiarato, ora viene restituita l'onorabilità. Sentiamo Fabrizio Di Vito. Ho sempre avuto fiducia nella giustizia, per parte mia ho soltanto difeso la mia dignità di donna ed il mio ruolo pubblico. I fatti emersi parlano da soli, mi viene restituita la mia onorabilità. Così Anna Maria Scalise, sindaco di Ruoti, commenta l'esito dell'operazione della squadra mobile di Potenza che ha portato ai domiciliari 16 persone per corruzione, calunnia e atti persecutori. Al centro di due filoni d'inchiesta coordinati dalla Procura di Potenza, l'ex sindaco di Ruoti, Angelo Salinardi, già vice sindaco della Scalise, fino al 2019, quando tra i due rapporti si logorarono, al punto che dopo la crisi di maggioranza, Salinardi passò all'opposizione di Scalise, dopo averne sostenuto la candidatura prima cittadina. Io continuerò a fare il sindaco, di fatto vice sindaco, ma sindaco di fatto, per le pratiche di Ruoti, per la gestione di Ruoti, la svolgerò io come ho fatto in questi dieci anni. La sindaca al mio, fino alla mia destra, seguirà la parte istituzionale, la regione, provincia e le riunioni varie che ci saranno nelle varie istituzioni, quindi con queste differenze di compito. Ma la gestione pratica del Paese sarà in mano a me. L'obiettivo di Salinardi, in concorso con alcuni collaboratori e altri consiglieri di minoranza, a cui sono contestati i reati di concorso in calugne e stalking, era proprio far dimettere la Scalise. In questo ambito è emerso il coinvolgimento del brigadiere dei Carabinieri Davide Maletesta e del tenente della Polizia Municipale di Ruoti, Marianna Di Maio, oltre al responsabile dell'ufficio stampa della provincia di Potenza, Luigi Scaglione, tutti ai domiciliari. L'altro filone si è concentrato su presunte attività corruttive tra privati, svolte nell'indotto FCA. Soggetti inseriti in aziende ritenute riconducibili a Salinardi avrebbero pagato utilità ai gestori di società appaltatrici per ottenere commesse. Il GIP del Tribunale di Potenza, Antonello Amodeo, ha disposto il sequestro preventivo di cinque società e quello di diversi beni come auto di grossa cilindrata, la somma di 9,7 milioni di euro e carte di credito aziendali. E dopo il nostro servizio di apertura siamo pronti per partire con la rassegna stampa. Cominciamo come sempre dalla prima pagina della Nuova del Sud che è dedicata, l'apertura è dedicata proprio all'operazione di ieri della squadra mobile di Potenza, stalking, dossieraggio e mazzette, terremoto giudiziario a ruoti, atti persecutori per far dimettere l'ex sindaca con ripetute accuse di incontri extra coniugali rivelate e sinfondate. Agli arresti domiciliari è finito l'ex sindaco Salinardi e tre consiglieri di minoranza. Sequestrate in oltre cinque società dell'indotto Stellantis e 10 milioni di euro. L'auto, le carte di credito e persino le multe in Francia, la domestica e il giardiniere. Tutti i benefici in cambio di commesse e subappalti. E poi ancora la cronaca sotto la notizia di apertura. all'atronico nella frazione di Agromonte, picchiata dal figlio, salvata dal 112, guaribile in un mese, obbligo di dimora per l'uomo. E poi sorveglianza sanitaria congelata. A Ea, l'associazione esposti a Mianto, è pronta a ricorrere alla procura per interruzione di pubblico servizio. Il programma di assistenza ai lavoratori ex esposti a Mianto finisce tra i lea ordinari e saltano le risorse. Se dal 2019 è negato lo screening a oltre 2.500 assistiti, ci sono casi ormai irreversibili e anche decessi. Andiamo nella falsa apertura. Nessun allargamento della maggioranza. Presidenza e nuova giunta entro 10 giorni. Si parla della crisi politica in legione. Ieri a Roma, confronto fra Bardi e i segretari di maggioranza. Viziello intanto è passato alla Lega. È ufficiale. Poi si parla sulla nuova di transizione energetica. Candidate in Basilicata. 8 aree industriali e 2 aree pipe. Di spalle il punto di vista di Nino Grasso, che oggi si occupa dell'Arpab, allo sbando. Andiamo nel taglio basso, dove troviamo l'emergenza coronavirus. Più di mille contagi e tre decessi. Covid, altra giornata nera. Curva soltanto in leggero calo. E poi il rapporto pendolare a 2022, per quel che riguarda la Basilicata, treni vecchi e la cura del ferro che manca. Sulla prima di oggi della Nuova del Sud, spazio anche allo sport. In particolare alla Serie C e all'appello di Patron Cayata. Io non scappo. Ora salviamoci. È il momento di difendere la C. Il presidente del Potenza tra presente e futuro, dice, le mie quote a disposizione. Ma manterrò l'impegno fino alla fine. Andiamo alle pagine interne. A pagina 4 e 5. Trovate l'approfondimento sulla notizia di apertura della Nuova di oggi. Stalking alla sindaca di Ruoti per farla dimettere e corruzione. 16 arresti per scardinare il sistema Salinardi. E qui nel box vediamo tutti i nomi delle persone finite ai domiciliari. Il paese mio sarà di nuovo sindaco. Ai suoi collaboratori e consiglieri di minoranza, Salinardi ribadiva costantemente il suo obiettivo, dicendosi pronto anche a denunciare il giudice del TAR che aveva rigettato uno dei tanti ricorsi contro la maggioranza di Ruoti. Nel mirino anche l'ispettore di Tolla, il poliziotto sarebbe stato calunniato con un esposto presentato in procura. Nella denuncia si sostenevano intenti vendicativi nei confronti di Salinardi. Ancora su questa notizia, altri approfondimenti a pagina 6 e 7, affari anche sulle mascherine. Laboratorio Lampo allestito all'interno della stazione Tamoil, prodotto scadente per maggiori margini. Accordi per eludere i controlli sulla conformità su 1.100 a doppio strato. Infiliamone una ogni tanto per dire che è capitato. Questi sono degli stralci, delle intercettazioni. Poi l'auto, le carte di credito e persino le multe in Francia, la domestica e il giardiniere. Ecco tutti i benefici in cambio di commesse e subappalti. Oltre alle auto, ricariche alla carta di credito di Massano che chiedeva più dei 2.000 euro al mese concordati. Sequestrate 5 società dell'indotto stellanti, se quasi 10 milioni di euro in conti e denaro in cambio dei lavori, l'uso gratis di un alfa a Stelvio a uno dei dirigenti. Ora parliamo della vertenza ex Copbox. Questo pomeriggio l'incontro in regione tra aziende e sindacati dopo l'annuncio della nuova società, la Eppi, di voler chiudere lo stabilimento di Ferrandina a rischio. Ci sono 40 posti di lavoro in concomitanza con il vertice, che i dipendenti insieme alle loro famiglie si ritroveranno in presidio in Viale Verrastro. Sentiamo i dettagli da Alessandro Panuccio. La protesta dei lavoratori ex Copbox si sposta da Ferrandina a Potenza in occasione dell'incontro in programma al Dipartimento Attività Produttive alla presenza dell'assessore regionale Francesco Cupparo dei sindacati e dei vertici aziendali. Il tavolo di confronto dopo l'annunciata chiusura dello stabilimento di Ferrandina è il paventato licenziamento per 40 lavoratori. In contemporanea all'incontro in regione è previsto un presidio dei dipendenti insieme alle loro famiglie che si ritroveranno davanti alla regione in attesa di risposte circa il loro futuro. Nei giorni scorsi, appresa la volontà da parte del gruppo Eppi di voler chiudere la sede di Copbox, il personale ha occupato lo stabilimento come gesto di immobilitazione, supportato anche dalle sigle sindacali e dalle istituzioni locali come il sindaco di Matera Domenico Bernardi e il presidente della provincia Piero Marrese. Da 40 anni l'azienda produce confezioni per il settore alimentare in una zona nevralgica della Zess Ionica, al retroporto di Taranto. Per questo sindacati, lavoratori e istituzioni hanno chiesto una verifica con i vertici aziendali, ai quali si è appellato in una lettera anche il vescovo della diocesi di Matera Ersina. Il Sud, ha sottolineato Monsignor Giuseppe Cagliazzo, non si aiuta decidendo di chiudere le aziende. Economia e impresa hanno bisogno di etica. Per questo l'auspicio è che la decisione sia rivista e ripensata, affinché la ex Copbox non venga chiusa ma rilanciata. Riprendiamo la nostra rassegna stampa da pagina 8 della Nuova del Sud, dove si parla di idrogeno verde, benefici anche per Stellantis. La Will commenta positivamente la candidatura di Melfi avanzata dal sindaco inserata all'annuncio di Bardi, manifestazione di interesse inviata per 8 aree industriali più 2 aree pipe. E poi nel taglio centrale, bollette su del 42%, piccole e medie imprese sempre più in difficoltà, Union Camere, studio sull'aumento di luce e gas nei primi tre mesi, i dettagli nell'articolo di Arturo Giglio. Andiamo avanti, a pagina 9, l'approfondimento sull'emergenza coronavirus, altri tre decessi e più di mille contagi, la curva scende ma ancora troppo lentamente. Risale pure il numero dei posti occupati negli ospedali, da 95 a 98 e nelle terapie intensive ci sono ora sei pazienti. Le vittime da inizio anno sono state 64, quasi 700 da marzo 2020, oltre 300 casi in meno, ieri quelli emersi sono 1.157 rispetto a 7 giorni fa, ma in calo sono anche i tamponi processati 7.111. Andiamo avanti, siamo a pagina 2, dove troviamo il punto di vista di Nino Grasso, ARPAB allo sbando, la regione solo ora scopre che il regolamento di Tisci era illegittimo, mentre monta la polemica per la benevolenza mostrata dall'Aggiunta regionale nei confronti del DG sospeso, la direttrice generale del Dipartimento Ambiente, Liliana Santoro, firma la decadenza della riorganizzazione attuata negli ultimi mesi all'interno dell'Agenzia di protezione ambientale. Alle pagine 10 e 11, l'approfondimento di Mariolina Alnotar Giacomo, che oggi si occupa di sorveglianza sanitaria congelata, la IEA pronta a ricorrere alla Procura per interruzione di pubblico servizio. Il programma di assistenza ai lavoratori ex esposti a Mianto finisce tra IEA ordinare e saltano le risorse per prestazioni che invece sono extra. Dalla 2019, negato lo screening, ha oltre 2.500 assistiti da parte dell'unità operativa della medicina del lavoro che coordina il piano. A differenza del passato, dice Mario Murgia, presidente dell'associazione esposti a Mianto e Valbasento, ospite negli studi della nuova TV a Caffè di Traverso, dice siamo riusciti a porre la questione nell'ambito di un tavolo con l'attuale direttore generale Tripaldi, ma l'entità ormai è allarmante e va istituita una commissione ad hoc. E a causa della pandemia e della crisi economica sono tante le famiglie lucane che vivono negli stenti. Per venire incontro a queste persone torna anche quest'anno la giornata di raccolta del farmaco. Fino a lunedì prossimo sarà possibile donare medicinali nelle 55 farmacie che hanno aderito in tutta Basilicata. Sentiamo Donato, Valvano. La raccolta dei farmaci torna anche quest'anno con l'obiettivo di aiutare le famiglie che ne hanno più bisogno, soprattutto in questo contesto di grave crisi sanitaria dovuta al Covid, ma anche economica con una ripresa che stenta a ripartire. Spesso c'è chi dona una semplice scatola di tachipirina, ma anche di sifientanti e mascherine, un gesto importante per quanti vivono la quotidianità negli stenti. Fino al prossimo lunedì 14 febbraio sarà possibile donare medicinali da banco nelle farmacie aderenti. 55 kg che hanno dato l'ok in Basilicata, mentre a livello nazionale sono 5.000. Sono molto importanti, soprattutto in questi due anni in cui diverse famiglie hanno avuto tanti problemi economici, diventa ancora più importante il supporto, la socialità e il sostegno. Non ci dimentichiamo che poi tutti i banchi farmaceutici sono associati a ONLUS che agiscono sui nostri territori. Quindi le nostre donazioni vanno alla nostra città e alle persone che incontriamo tutti i giorni. Questa iniziativa che portiamo avanti da tanti anni, ci siamo resi conto che un piccolo aiuto da parte di tutti quanti noi fa tanto, perché sono persone che non riescono purtroppo a comprare anche i farmaci essenziali e quindi un'iniziativa del genere è importante. I medicinali raccolti sosterranno 31 realtà regionali che si prendono cura dei bisognosi. Durante l'edizione 2021 in Basilicata sono state donate più di 4.000 confezioni di farmaci per un valore di circa 30.000 euro, che hanno aiutato a curare poco più di 3.000 assistiti di 35 enti. I farmaci raccolti saranno consegnati a 1.800 realtà assistenziali che si prendono cura delle persone indigenti, offrendo gratuitamente cure e medicine. E c'è grande sensibilità. Ecco cosa donano i Lucani. C'è sensibilità perché chi conosce l'iniziativa viene già chiedendo di donare. Ovviamente antipiretici, tachipirine, antinfiammatori sono quelli più richiesti dalle stesse associazioni che poi sono loro a indicarci a seconda delle persone che hanno, quelli che gli possono servire di più, ma disinfettanti, cerotti, anche mascherine, igienizzanti perché di questi tempi servono anche queste cose. Riprendiamo la nostra rassegna stampa da pagina 14 della Nuova del Sud. Le notizie da Potenza e Provincia. L'apertura è dedicata alla cronaca, picchiata e maltrattata dal figlio. Arresto e obbligo di dimora per un 37enne. L'aggressione ad Agromonte nella casa della donna salvata da una chiamata alla 112. Ferite per lei guaribili in 25 giorni. Le notizie da Matera e Provincia. Bullismo, la scatola delle voci come strumento per raccogliere le denunce degli studenti. L'iniziativa adottata all'Istituto Comprensivo di Miglionico in sinergia con l'amministrazione comunale. E poi anche qui la cronaca. Ruba un'auto fermato a Crotone, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale dopo un inseguimento. Il mezzo era di proprietà di un anziano signore della provincia di Matera. L'autore del furto è un tunisino che sarà rimpatriato. Era stato espulso su decisione del questore. Lo sport. Aiutiamo la squadra a salvarsi. A parlare è il patron del Potenza Kayata. Se volete prendetevela con qualcuno e fatevelo con me. Ora pensiamo a difendere l'AC, il patron del Potenza Stop and Goal. Confermo che le mie quote sono a disposizione ma non scappo. Impegno fino alla fine. E dallo sport ora passiamo alle previsioni meteo. Amici di Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì che vedrà il ritorno dell'alta pressione sull'Europa centro-meridionale. Quindi anche da noi condizioni di bel tempo. Manca sempre la pioggia, soprattutto al nord. E purtroppo non si intravedono grandi perturbazioni neanche nelle giornate successive. Come nuvolosità, ben poco da segnalare. Qualche nuvola tornerà in giornata in Liguria per l'arrivo di correnti umide dal mare ma senza particolari conseguenze. E in effetti anche come precipitazioni nulla da segnalare. Situazione tranquilla in tutta Italia. Quindi in definitiva ci attende un mercoledì di sole da nord a sud. Diciamo qualche nuvola in Liguria. Magari nell'entroterra del Genovese potrebbe cadere anche qualche goccia ma fenomeni davvero isolati. E temperature diurne molto miti con le massime che sferiranno i 15 gradi un po' in tutto il paese. Vi segnalo ancora un pochino di vento nel Salento ma nel complesso anche da quel punto di vista. Giornata tranquilla. Per i dettagli comunque sulle vostre località scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. Previsioni per domani. Al mattino sulle coste bel tempo con cieli sereni. In montagna bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio sulle coste bel tempo con cieli sereni. In montagna bel tempo con cieli sereni. E dopo le previsioni meteo vi mostriamo la prima pagina del Quotidiano del Sud. L'apertura è dedicata anche qui alla cronaca giudiziaria. Congiura contro la sindaca. 16 arresti. A Ruoti creato un clima infernale. Fermato l'ex consigliere regionale Scaglione. La volevano far dimettere. Domiciliari l'ex primo cittadino Salinardi. Consiglieri comunali. Imprenditori dell'indotto Stellantis. E anche un carabiniere. Poi la politica. Bardi lega la maggioranza. Congelate le dimissioni degli assessori del Carroccio. Nuova giunta entro dieci giorni. Escluso l'allargamento dell'esecutivo. Con un supporto sul modello Draghi. E poi a Matera persi dieci anni. Lo studentato è un rudere. Come vediamo qui nella foto. In basso. Popolare di Bari. Responsabile civile. Questa volta il Tribunale di Bari rigetta l'istanza. Non è stato leso. Il diritto di difesa. La banca aveva chiesto ancora l'estromissione dal processo. Bene. Ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Poi ritorniamo in studio per la lettura delle prime pagine dei quotidiani nazionali oggi in edicola. Pisani Cartomarket. Da oltre 80 anni un mondo di passione, colore e professionalità. Nel nostro store trovi davvero tutto. Prodotti per la scuola, l'ufficio e per i tuoi regali. Migliaia di proposte selezionate tra i migliori brand del settore. Pisani anche Office Design. Un ampio showroom per scegliere con cura e costi chiari come arredare il tuo ufficio. Pisani Cartomarket è in via della chimica numero 9 a Potenza. Se hai partito a IVA ti aspettiamo anche il nostro moderno cash and carry incontra da Santa Loia, Tito Scalo. Cipro Enterprise SRL. La nostra missione è soddisfare i clienti con elevata professionalità. Ci occupiamo di movimento terra, montaggio barriere stradali e recinzioni metalliche, lavori di consolidamento stradale e di scarpate, opere in terra rinforzate a ridotto impatto ambientale e opere a verde. Opere di difesa idraulica, gabbioni e materassi metallici, opere di rete paramassi e barriere paramassi, opere in legno. Cipro Enterprise SRL a San Cataldo di Bella. Ed eccoci ritornati in studio per la seconda parte di Prima Notizia dedicata alla lettura delle prime pagine dei quotidiani nazionali. Cominciamo dal Corriere della Sera, l'apertura, Ratzinger, chiedo perdono, non ho mentito sugli abusi. La risposta di Benedetto XVI sull'inchiesta di Monaco, presto sarò di fronte al mio giudice ultimo. La Repubblica, stessa apertura, il mea culpa di Ratzinger. Anche la stampa che titola così, il mea culpa di Ratzinger sui preti pedofili. Passiamo velocemente al Fatto Quotidiano che ha un'apertura diversa. Si parla del Movimento 5 Stelle, tre vie di uscita e ordinanza col buco. Grillo discute con Conte la replica al Tribunale, regole ed equivoci. I giudici non sanno che il regolamento sul voto online c'è dal 2018. Il garante dice, zitti, è complicato. Il manifesto ci vediamo da Mario, dalla crisi dell'auto alle concessioni balneari, dalle bollette al super bonus. Tra incontri ristretti e consigli dei ministri, Draghi riparte da vecchie e nuove emergenze e con le solite divisioni. Venerdì sul piatto la riforma del CSM, in arrivo intanto altri 4 miliardi contro il caro Energia. Il resto del Carlino, benzina a record, ora è proprio austerity. La verde e il diesel mai così cari da 10 anni, bollette folli. Domani centinaia di sindaci spegneranno le luci dei monumenti, i rincari dell'energia strangolano le aziende, le famiglie. Tagli per risparmiare. Il governo intanto promette altri 4 miliardi di aiuti. E concludiamo con la prima pagina del Sole. 24 ore, Iliad, 14 miliardi per Vodafone Italia. Poi bollette, lo dicevamo prima, altri aiuti in vista. Correzioni sul bonus, 110%. Taxi, trasporto locale e balneari, il fronte del no alla concorrenza. E con la prima pagina del Sole, 24 ore, concludiamo qui la nostra rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi e buona giornata. Grazie per essere stati con noi.